Siamo sostanzialmente nella terza era del cloud, dopo un'era di macchine virtuali, a cui è seguito un'era in cui il cloud è stato un cloud puramente infrastrutturale e oggi siamo probabilmente in un'era che è molto più un'era di trasformazione, in cui il cloud permette attraverso la tecnologia di trasformare i clienti, di trasformare il modo di fare business. E la cosa molto bella secondo me è che questa trasformazione è alla portata di tutti, sia dai digital native, sia dalle start-up, ma che anche delle grandi aziende tradizionali. Eccoci qua in questa nuova puntata delle Tech Stories del sito Mastermind. Oggi qua con me c'è Davide Sommacampagna, manager di Google Cloud, che dopo ci spiegherà bene qual è il suo ruolo, qual è la sua funzione. Intanto per chi ci sta seguendo ricordo che siamo presenti su tutte le piattaforme podcast, Apple Podcast, Spotify, Music Smash, eccetera, quindi ricordatevi di iscrivervi al podcast. E la stessa cosa su YouTube c'è il canale CTO Mastermind, iscrivetevi anche lì, abilitate le notifiche così potete ricevere sempre questi contenuti. E per chi non è iscritto alla community, vi ricordo che c'è anche la community con più di 650 leader tecnologici, CTO, eccetera, su www.ctomastermind.it. Ok, allora, oggi parliamo di dati e sostenibilità in ambito cloud. Non poteva essere così, visto che appunto abbiamo qui un'importante persone di Google Cloud, ma a questo punto innanzitutto benvenuto Davide, raccontaci chi sei. Grazie, grazie Alex. Sono Davide Sommacampagna e sono partner engineer manager in Google Cloud e gestisco un team di una decina di persone di ingegneri di prevendita che aiutano i nostri clienti attraverso i partner a innovare utilizzando il cloud nel modo migliore. Perfetto. Allora, direi di andare a questo punto direttamente nel vivo della conversazione. Ma perché parliamo oggi di dati da una parte e di sostenibilità del cloud? C'è un'importante correlazione che dopo vediamo, anzi proprio qualcosa che li lega in maniera importante. Però intanto ti voglio chiedere qual è la visione da questo punto di vista proprio di Google Cloud e su quali aree proprio in questo periodo sta investendo. Certo. Beh, allora, diciamo che Google Cloud si è focalizzata tantissimo su alcune aree che crediamo portino un grande valore ai clienti. Innanzitutto, nella nostra visione siamo sostanzialmente nella terza era del cloud. dopo una prima era che era un'era in cui il cloud era visto come un modo per provisionare delle macchine virtuali quindi chiamiamola un'era di macchine virtuali a cui è seguito un'era in cui il cloud è stato un cloud puramente infrastrutturale quindi dove i clienti utilizzavano le funzionalità, l'elasticità del cloud per costruire la propria infrastruttura in modo dinamico e oggi siamo probabilmente in un'era che è molto più un'era di trasformazione in cui il cloud permette attraverso la tecnologia di trasformare i clienti di trasformare il modo di fare business e la cosa molto bella secondo me è che questa trasformazione è alla portata di tutti sia dei digital native, sia delle start-up ma che anche delle grandi aziende tradizionali che possono cambiare e fare del business innovativo. una cosa altrettanto importante è qual è il valore che il cloud mette a disposizione dei clienti beh sicuramente noi vediamo la trasformazione guidata molto dai dati e ovviamente diciamo molti clienti riconoscono in Google la capacità di innovarsi attraverso i dati se pensiamo come il mondo della ricerca si è evoluta negli ultimi vent'anni da una semplice form di ricerca oggi permette un'interazione con diversi formati e la possibilità di trovare diverse informazioni quindi una trasformazione data cloud, data dei dati una trasformazione data dall'apertura della tecnologia quindi l'open source, l'open infrastructure quindi la capacità di integrarsi con diversi sistemi e mondi esistenti poi un tema fondamentale che è quello della sicurezza che nel mondo della clientela soprattutto in Europa sta diventando il tema anche della sovranità digitale di come controllo i dati e di come garantisco diversi livelli di sicurezza considerando che la security è il tema più pervasivo e importante e poi appunto in questo caso abbiamo investito tantissimo in ambito sicurezza e nell'ambito della collaboration fondamentale per quanto riguarda la trasformazione che ahimè ha portato la pandemia ma che sempre di più evidenza come sia importante poter collaborare ovunque sia o ovunque una persona sia ma tra l'altro anche all'interno della piattaforma cloud la collaborazione se pensiamo al mondo dei dati deve essere sicura e allo stesso tempo flessibile per permettere a chi prende decisioni di avere le informazioni che arrivano magari da diversi sistemi quindi in un'ottica collaborativa se pensiamo anche a machine learning engineer la possibilità di condividere in modo sicuro dataset diventa un tema anche di collaborazione per costruire modelli sempre più efficaci e scalabili e poi c'è il tema pervasivo della sostenibilità se io oggi come cliente investo nel cloud e anche perché il cloud mi permette di fruire di una tecnologia che deve essere pensata sin dal suo esordi come tecnologia sostenibile e questo è un tema di scala è un tema che sicuramente gli hyperscaler e ovviamente per quanto riguarda Google Cloud si è sempre affrontato perché un servizio deve raggiungere tante persone ma allo stesso tempo deve essere diciamo scalabile ma sostenibile allo stesso tempo e quindi l'efficienza dell'infrastruttura diventa un tema fondamentale che può essere messo a disposizione dei clienti infatti quando parliamo di sostenibilità da quale punto di vista lo andiamo a inquadrare nel contesto di una piattaforma cloud perché magari qualcuno potrebbe pensare una questione ambientale, green economy o altre cose del genere che sono tutti fattori ma come lo inseriamo in questo contesto qui specifico? Allora diciamo che quello che vediamo è che la sostenibilità assume due temi un tema puramente operativo cioè giustamente io utilizzo una risorsa virtuale sulla piattaforma cloud la piattaforma, il data center, la region che lo ospita deve essere diciamo il più green sustainable possibile e questo per esempio all'interno di Google Cloud viene fatta facendo un offset dell'energia in rinnovabile quindi per ogni minuto in cui i data center girano con delle risorse rinnovabili Google fa un acquisto di risorse rinnovabili e quindi le net emission sono zero considerando però che partiamo da un data center che intrinsecamente è già altamente efficace una cosa che stiamo sempre vedendo di più e si lega al mondo dell'innovation quindi della trasformazione è che il cliente da un lato ha bisogno di conoscere le emissioni della propria infrastruttura anche quelle diciamo pur sapendo che le emissioni poi dal netto sono nulle voglio sapere una scelta di una regione rispetto a un'altra di un servizio rispetto a un altro che impatti ha sulle mie emissioni perché è un po' il tema del fornire un elettromessico a una persona può essere efficace ma se io non do modo alla persona di utilizzare in un modo virtuoso non sarò diciamo efficace nell'utilizzare le mie risorse e questo è anche ovviamente un impatto economico ma il tema molto interessante è il tema della innovazione digitale che la sostenibilità porta ci sono dei clienti che utilizzano Google Cloud e che sfruttano l'intelligenza artificiale ai dati per integrare fonti dati proprie con fonti dati esterne per fare sostanzialmente dell'innovazione sulla supply chain e per andare a verificare e a stabilire qual è l'impatto delle proprie scelte di approvvigionamento di risorse primarie sul territorio e quindi qual è l'impatto e quindi guidare questa propria scelta di responsabilità rendendola anche visibile ai propri clienti ai propri fornitori che a loro volta poteranno creare una catena virtuosa di scelte sempre più in un'ottica di sostenibilità e quindi Davide mi sembra di capire che sostanzialmente la questione non è soltanto puramente ambientale green economy ma c'è anche una parte di elementi che sono i veri propri business driver e d'altra parte produce anche dei risultati che sono immediatamente tangibili mi sembra di capire certo sì 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 secondo alcune ricerche quello che un'azienda può trarre in termini di benefici dalla sostenibilità diciamo non è solo l'aspetto diciamo di impatto sociale quindi tutti noi credo sentiamo il tema della sostenibilità in termini anche di impatto nel futuro e nello stato presente di questo del mondo in cui viviamo è una responsabilità che tutti noi abbiamo però dal punto di vista anche proprio del di quello che sta succedendo nell'economia attuale ha un'importanza perché sempre di più ci sono dei requisiti di regolamentazioni che richiedono di fare investimenti che non non abbiano impatti negativi sull'ambiente e c'è una regolamentazione chiamata ad uno significant arm che ha questo scopo io devo dimostrare di investire cercando di minimizzare l'impatto ambientale quindi da un lato la regolamentazione ma c'è anche un aspetto di ritorno in termini di sicuramente investimento dei clienti oggi molti clienti guidano le loro scelte basandosi sulla sostenibilità o sulla trasparenza in termini di sostenibilità dei prodotti che acquistano e quindi più un'azienda riesce a integrare la sostenibilità nei servizi più i clienti saranno spinti a riconoscere il brand di quell'azienda come un brand innovativo e anche sostenibile poi c'è un tema di e quindi questo è un tema di percezione c'è un tema di anche investimento quindi gli investimenti maggiori sono attratti da business sostenibili o che comunque hanno già intrapreso una strada di sostenibilità e poi c'è un tema anche che non va trascurato anche di diciamo benessere dell'azienda stessa che trasmette anche i propri dipendenti un'azienda che trasmette uno sforzo reale verso l'adozione delle pratiche di sostenibilità partendo dall'infrastruttura ma anche dai servizi di valore che costruisce sicuramente crea anche un ambiente positivo all'interno dei quali molti dipendenti si riconosceranno per i valori che questo rappresenta e quindi assolutamente potremmo sintetizzare dicendo che la sostenibilità abbassa i costi aumenta il brand la forza di un brand aumenta l'innovazione che il brand trasferisce nel mercato e sicuramente aiuta le aziende ad essere anche compliance con tutta una serie di regolamentazioni che stanno arrivando che sono arrivate nel settore da questo punto di vista siccome comunque chi utilizza delle piattaforme cloud lo fa per costruire un qualcosa di più grande a seconda del livello di utilizzo cioè se parliamo di infrastructure, service, pass, sas eccetera quindi da una parte è chiaro il lavoro che sta facendo Google che ha fatto e che farà in termini di sostenibilità però anche un po' in base a quello che hai detto finora anche qui direi che c'è anche un ruolo attivo proprio da parte degli utilizzatori di queste piattaforme quindi tipicamente le aziende nel costruire le loro soluzioni proprio nel forse che condividere una sorta un po' di responsabilità non nel creare questa sostenibilità come la vedi tu da questo punto di vista? Sì, è proprio io direi che spesso sentiamo il tema della shared responsibility tra diciamo il cloud provider e il cliente quindi poi i vari modelli IASPAS declinano quanto è la responsabilità magari di controllo puramente del cloud provider e quanto del cliente però anche nella sostenibilità avviene la stessa cosa nel senso che io per esempio oggi in Google Cloud posso trovare la possibilità di esportare le informazioni delle mie emissioni dei sistemi che io utilizzo e allo stesso tempo posso trovare informazioni che mi aiutino a scegliere la regione più efficiente in più il cloud provider come best practice di utilizzo delle risorse mi dà anche delle raccomandazioni non solo dei costi di sizing delle risorse ma anche proprio di spegnere risorse e quindi è una responsabilità anche dell'utilizzatore finale continuare a monitorare la propria infrastruttura allo scopo di capire quei sistemi che magari andrebbero spenti o che sono utilizzati quando non è necessario allo stesso tempo la cosa importante è che il cloud provider aiuti un cliente nella propria trasformazione digitale anche a capire come integrare questi dati e darne visibilità esternamente quindi mostrare il proprio approccio virtuoso non solo all'utilizzo delle risorse ai propri servizi per creare proprio una catena di valore e quindi oggi lo vediamo in tantissimi scenari molte aziende che ci danno visibilità per esempio dei viaggeri ci dicono qual è l'emissione di un certo viaggio e quindi diciamo pian piano queste informazioni hanno iniziato ad apparire sempre di più nella nostra vita quotidiana e probabilmente sempre di più guideranno alcune delle nostre scelte o quantomeno il fatto di avere visibilità di un servizio quasi come un software as a service quindi un servizio che incorpora le best practice dell'hyperscaler e le best practice dell'azienda che implementa un servizio diventa poi un servizio che il cliente finale acquisisce essendo guidato non solo dall'aspetto di costo ma anche dall'aspetto di sostenibilità che l'uso di questa piattaforma mi dà guarda che qui hai usato una parola chiave secondo me molto importante che è quella della trasformazione che avevi detto anche all'inizio è un concetto che secondo me è veramente molto importante cioè pensiamo anche a quelle che dicevi tu stesso le varie aree del cloud cioè è chiaro che comunque il cloud nelle sue varie versioni ha consentito alle aziende anche a un certo punto di creare nuovi modelli di business o rendere fattibili quelli che una volta magari erano molto difficili da realizzare perché magari erano economicamente molto molto impattanti quindi siamo arrivati al punto che una startup immediatamente può lanciare da zero una capacità molto elevata quando una volta chiaramente sappiamo che dovranno fare investimenti in conto capitale spesso non sostenibili e anche in questo caso qui appunto parlando però proprio di sostenibilità e dati ecco è venuto fuori questo concetto di trasformazione che appunto è citato varie volte quindi vorrei proprio stressare mettere proprio l'accento su questa questione in cui farà capire ancora meglio cosa le aziende possono, di cosa possono beneficiare in questo senso qui da questi concetti da ciò che mette a disposizione anche Google Cloud sostenibilità poi magari andiamo anche proprio per approfondire il tema dati che poi ha tutta una sua parte molto interessante sì, allora il tema probabilmente la complessità maggiore che sicuramente i clienti si trovano ad affrontare è il capire come utilizzare al meglio i propri dati tu giustamente hai citato un digital native un digital native o comunque una startup deve costruirsi il proprio diciamo la propria base dati da un certo punto di vista quindi deve conoscere i propri clienti però essendo molto agile ed avendo un paradigma cloud scalabile lo può fare velocemente può entrare in un mercato con un'idea innovativa implementarla in poco tempo e ricavarsi una posizione importante invece magari un cliente tradizionale a volte si vede un pochino su una strada diversa dice io sono un'azienda che ha uno storico di esistenza di tanti anni e quindi innovare per me diventa più difficile però una delle grandi agilità è uno più che delle grandi agilità una delle grandi valori che porta il cloud in questo caso mi permetto di dire Google Cloud è che la trasformazione viene guidata dai dati molti di questi dati oggi non vengono sfruttati appieno e qui torniamo magari al caso che citavo prima del cliente che utilizza fonti terze e propri dati per fare la discovery all'interno della propria supply chain di quelle che sono aree dove approvvigionarsi di materie prime che hanno un impatto ambientale basso per fare questo l'azienda ha dovuto prima capire i propri dati capire i dati esterni e integrarli quindi i temi importanti che vediamo sempre di più nell'innovazione è la capacità di comprendere i propri dati ancora meglio perché ci sono tantissime informazioni dati che non sono state processate pensiamo ai dati non strutturati immagini file di testo audio video magari sono stati tenuti per motivi di compliance o magari non sono mai stati processati perché non si potevano estrarre informazioni utili con la tecnologia di oggi è possibile farlo a basso costo in maniera scalabile e quindi avere una fonte di dati che parla dei miei clienti dei loro bisogni e che insieme a un'altra serie di dati che magari ho storicamente archiviato mi permette di costruire o nuovi modelli di business o addirittura fare meglio diciamo sviluppare al meglio un servizio più personalizzato ai clienti perché oggi sempre di più nel mondo nel mondo del cliente finale vediamo la richiesta di avere un servizio personalizzato e questa cosa viene sbloccata dalla capacità di capire i propri dati e di mettere una roadmap tecnologica all'interno della propria azienda che integri man mano sorgenti dati e arrivi a parlare sempre di più del mio cliente di quello di cui ha bisogno ecco da questo punto di vista qui visto che appunto è chiaro che la tecnologia va proprio a impattare nel modo in cui anche le aziende vanno ad operare ci sono tutto un set di tecnologie che tipicamente a questo punto vanno a insistere sul dato che vanno proprio a cambiare il modo in cui lavorano ne so, gli analytics, intelligenza artificiale, machine learning però qui ti volevo chiedere in base a quello che hai potuto vedere sui grandi numeri, questo è un punto di Google Cloud quali sono queste tecnologie, le principali quantomeno e poi quali sono a questo punto le sfide che si pongono alle aziende nel trattare questi dati, nell'estrarre informazioni e far diventare un qualcosa sullo quale poi decidono in maniera anche importante certo, sì, allora innanzitutto diciamo partiamo sempre dalle famose tre V variety, velocity e volume quindi le tre famose V del mondo big data oggi abbiamo una grande varietà di dati una necessità di essere rapidi nell'analizzarli e capire le informazioni e diciamo un volume sempre crescente ora, questo capire il patrimonio dei dati è indispensabile per esempio per fare machine learning tante aziende oggi fanno fatica a fare machine learning perché non sono ancora state in grado di sviluppare una strategia dati che li permettesse di avere dati di qualità è in grado di costruire dei modelli affidabili perché i modelli di machine learning sono modelli che risentono della qualità del dato quindi dei modelli che imparano dai miei dati se i miei dati non sono di qualità o mancano di informazione il modello di machine learning non sarà un buon modello in grado di predire tutta una serie di elementi che voglio predire e quindi in questo contesto dobbiamo aggiungere un'ulteriore complessità che benché parliamo di cloud quindi di regione possiamo pensare che il cloud tenda ad accentrare il mondo in realtà è distribuito parliamo di edge, edge computing i device che usiamo tutti i giorni hanno una capacità computazionale sempre più elevata e quindi possono processare informazioni on the edge e il cloud è sempre di più distribuito quindi non solo in termini di device utente ma anche in termini di centri di elaborazione e quindi la terminologia del mondo dati si complica di più e questa cosa mette in crisi diversi clienti che devono investire correttamente e mettere insieme queste informazioni per quanto riguarda la tecnologia sicuramente sono da nostro punto di vista sono potremmo dire più o meno tre gli elementi fondamentali innanzitutto dobbiamo porci nell'ottica che i dati vanno integrati cioè sostanzialmente noi abbiamo diverse sorgenti dati con diverse strutture quindi non solo dati strutturati tradizionali SQL ma anche dati che non hanno una struttura loro quindi possono essere immagini, video e quindi possono essere informazioni importantissime che ci stanno dicendo il nostro cliente in quel momento cosa vuole cosa vuole ottenere e come sta interagendo con la nostra azienda e quindi dobbiamo avere una piattaforma aperta e in questa ottica diciamo nella tecnologia Google il mondo BigQuery va in quest'ottica noi diciamo sempre l'ottica del break the silos cioè tendenzialmente molte aziende ma è normale sono cresciute creando dei silos per cui c'era il CRM il mondo marketing magari il mondo dell'e-commerce quindi varie piattaforme con i loro dati la tecnologia che noi crediamo sia utile è una tecnologia che deve permettere di integrare queste informazioni senza richiedere a un cliente di trasformarle migrandole tutte in un unico calderone e quindi sempre di più l'impostazione è diciamo sostanzialmente è multiformato quindi supportare sorgenti dati in ambienti diversi integrarli facilmente quindi rompendo i silos dare una struttura di interrogazione quindi cercare di semplificare la modalità di interrogazione io non posso interrogare delle immagini in un linguaggio che non sia un linguaggio diciamo semplice da utilizzare per chi fa l'analisi dei dati chi fa analytics e poi crediamo che anche una piattaforma deve essere multi cloud il cliente può aver investito fortemente su un hyperscaler o su degli ambienti on premise non può necessariamente dover migrare tutto quanto su una nuova piattaforma cloud e domani ridiscutere tutto quanto ma vorrebbe molto probabilmente avere la miglior tecnologia prendendo i dati dove si trovano in questo momento o movimentando una quantità di dati minimale per le proprie analisi o per i propri algoritmi di intelligenza artificiale quindi diciamo questo è un po' il tema che vediamo sempre più pervadere ed è un po' il tema che all'interno della piattaforma di dati di Google Cloud si è andato a impostare quindi molti connettori che permettono di aggregare una serie di informazioni all'interno di una piattaforma che tra l'altro è una piattaforma serverless quindi anche quest'ottica molto importante rispetto al mondo puramente infrastrutturale avere una piattaforma e su cito BigQuery di tipo serverless permette a un cliente di focalizzarsi sulla connessione dei dati quindi connettere i dati costruire le query per interrogarli rispetto a fare tutta una serie di considerazioni di sizing dell'infrastruttura ancora prima di aver capito quali sono i domini e i dati che deve integrare e quindi anche quest'ottica facilita l'adozione perché di fatto non chiede un investimento a priori molto elevato per iniziare a interrogare le basi dati che magari sono presenti nella mia azienda guarda infatti da quello che emerge anche dalle ricerche che abbiamo fatto anche nel sito Mastermind quello che abbiamo compreso è che anche Google Cloud brilla proprio in particolare per le varie aree anche in questa qui proprio di dati tant'è vero che anche tu già hai citato tutta una serie di strumenti e di modalità e quindi ti volevo chiedere da questo punto di vista qui quali sono in generale un po' i vari tipi di workload che possono essere gestiti e su quali anche basi quali tecnologie e come queste possono operare in modo coerente tra di loro certo beh allora innanzitutto diciamo le sorgenti dati le tecnologie che possono operare sono tecnologie di raccolta delle informazioni quindi poter tecnologie che mi permettono sostanzialmente workload che mi permettono di aggregare dati dove si trovano oggi quindi potrei andare a prelevare i dati da una piattaforma analitica esistente di un cliente e andarli a inserire all'interno di un di un chiamiamolo di una piattaforma data cloud quindi da un lato workload integrazione dall'altra parte alcuni casi ovviamente il cloud pone dei sostanzialmente anche dei dei vantaggi quando io vado a migrare per esempio dei database sul cloud e quindi molti workload che vengono portati in cloud sono workload dove il fatto di avere una manage database mi permette sostanzialmente di andare a gestire il database con l'elasticità del cloud diciamo che sempre di più vediamo spingere il tema dell'analytics ovviamente quindi spesso i database sono parte di un contesto di migrazione infrastrutturale quando parliamo di integrazione è più un contesto di visione di un cliente un visione sempre più non tattica ma strategica del cloud come trasformazione dei dati cosa intendo nella visione tattica un cliente può trovare comodo migrare una serie di workload sul cloud perché è un workload infrastrutturale e gestire i dati con un manage database è comodo quindi migro il mio SQL server il mio Postgres sul cloud ho un servizio gestito libero il mio ET di un onere di gestione che non è da poco però diciamo questo è molto tattico quando invece io inizio una fase di trasformazione la fase di trasformazione più strategica viene guidata dal business e il business potrebbe avere un problema oggi per cui la propria piattaforma diciamo per esempio di marketing non parla con la propria piattaforma commerce quindi magari loro raccolgono degli input dal proprio sito di commerce però magari in quel momento non è in grado di capire come sta andando il proprio magazzino qual è la disponibilità di prodotti e quindi anche incastrare la domanda che vedo sul mio sito con quella che è effettivamente l'offerta che ho a disposizione e questo tipo di tema inizia a diventare un tema di analizzare più che workload le sorgenti dati e quindi il tipologia di workload in questo caso viene tendenzialmente accentrato attorno al mondo di BigQuery quindi piattaforma serverless e di connettori che connettono queste sorgenti dati e mi permettono di integrarle integrarle tra di loro torniamo al break dei silos on top a quest è andare a costruire della visualization quindi con degli strumenti o già esistenti presso il cliente o per esempio nel caso di Google Cloud esiste la piattaforma Looker quindi andare a costruire attraverso dei tool di visualizzazione una reportistica e poi l'evoluzione spesso naturale che vediamo è che integrando questi dati il secondo passaggio naturale è quello di iniziare ad approcciare il tema del machine learning e quindi posso utilizzare questi dati che mi danno dei segnali che arrivano dai miei utenti per esempio per fare lifetime value prediction del mio cliente o fare una predizione della Nespex Action magari nel mondo retail oppure nel mondo finanziario capire dagli input che arrivano da diversi sorgenti quali sono per esempio i prodotti finanziari più adeguati e che rispondono magari alle esigenze del mio cliente piuttosto che fare anche cose molto più complesse come fraud detection quindi andare a capire se sta succedendo qualcosa di anomalo all'interno della mia azienda all'interno della mia piattaforma e quindi questo è un altro workload abilitato dalle AI ed è un workload sempre di più a funzione di varie entità aziendali quindi abbiamo il business che identifica degli scenari dei needs che poi vengono calati sull'IT che capisce quali sono i dati le fonti dati che hanno quelle informazioni e costruisce prototipa un'integrazione che dà una risposta al business una risposta in tempo reale e quindi vediamo sempre di più un workload di integrazione fino a potrebbe essere anche questo workload poi a sua volta analitico e quindi invece servizio magari ai business analyst che hanno bisogno di informazioni un pochettino più complesse l'altro scenario quello che invece descrivevo parlando prima di sostenibilità è lo scenario in cui i dati abilitano un nuovo modello di business quindi mi abilitano quasi come un adesso uso impropriamente questo termine un software as a service provider cioè astraggo tutta la piattaforma che sta sotto espongo attraverso delle API o attraverso una piattaforma dei servizi per un cliente finale che può essere un altro business che li utilizza per fare a sua volta prendere decisioni sul proprio business e quindi diciamo è un workload B2B che è abilitato da tutta una serie di tecnologie ma parte sempre dall'idea di integrare i dati in modo sempre più efficace e su questo prima c'è stato anche a parte relativi all'intelligenza artificiale machine learning che prima si diceva che è anche spesso un'area in cui nelle aziende c'è difficoltà sono anche le statistiche che comunque alla fine spesso è un po' limitato l'impatto finanziario che le aziende effettivamente da sole riescono a restare da questo tipo di iniziative qui invece mi pare di capire sono tutta una serie di tool strumenti che in maniera integrata già riescono a darceli questi tipi di benefici sì corretto allora il tema dell'EI viene affrontato probabilmente diciamo sarebbe corretto classificarlo a tre livelli nel senso che il primo livello è per esempio quando io integro i dati in una piattaforma come BigQuery ho a disposizione nel linguaggio SQL che è un linguaggio comunemente utilizzato da persone che estraggono dati da base di dati un'estensione machine learning che mi permette velocemente di correlare le informazioni nella mia tabella e capire qual è l'impatto per esempio sulla predizione di un certo valore delle varie colonne e quindi magari io ho una tabella che rappresenta indicatori finanziari di un mio cliente e mi può predire qual è la sua per esempio stabilità finanziaria e quindi magari la sua affidabilità nel caso di un affido di un mutuo e quindi questo posso già farlo lì quindi mi semplifica la vita perché è un pseudolinguaggio SQL quindi molto semplice da comprendere ci sono poi una serie di strumenti che vengono messi a disposizione dalle piattaforme che li chiameremmo dei componenti di AI preconfezionati quindi faccio un esempio ci sono degli strumenti che mi permettono di facilmente estrarre da un'immagine gli oggetti presenti macchine auto e così via però esistono anche strumenti che mi permettono dando io degli esempi specifici di oggetti che voglio riconoscere di generalizzare il modello quello che noi chiamiamo AutoML in quel caso faccio un esempio un cliente che vuole costruire un servizio di assistenza sui propri prodotti potrebbe costruire un'applicazione che in cui il cliente finale fa una foto al proprio prodotto e l'algoritmo di AI velocemente mi dice qual è la tipologia di prodotto e magari addirittura mi dà un'indicazione della tipologia di danno se è un danno visuale che potrebbe avere l'oggetto e quindi velocemente può poi alla fine rendermi anche più efficiente come azienda così come ci sono sempre di più delle suite conversazionali come Contax Center e AI che mi permettono sostanzialmente di integrare strumenti diciamo di AI quindi mi permettono di fare speech to text quindi analizzare messaggi vocali quindi una chiamata vocale mi permette di analizzare il testo se il cliente interagisce attraverso un chatbot e mi permette di capire tante cose mi permette di capire per esempio se qualcuno mi sta scrivendo per esempio faccio un esempio supponiamo di avere un grosso call center di ricevere tantissime chiamate potrebbe darsi che l'80% delle chiamate possono essere risolte già con gli FAQ che sono sul mio sito e quindi posso indirizzare i clienti finali verso le risposte corrette che sono già presenti nel mio sito l'intelligenza artificiale mi può permettere di classificare invece quelle chiamate che sono di clienti importanti che in quel momento sono magari frustrati per un problema che stanno avendo col mio servizio che hanno bisogno magari di parlare non più con un'intelligenza artificiale ma con un operatore umano che capisca il loro problema e lo risolva in tempo in tempo rapido tante volte ci capita di interagire con dei chatbot abbiamo un problema e diciamo cavolo questo non risolverà ma è il mio problema e quindi l'intelligenza artificiale sviluppata correttamente anche con dei building block molto semplici può già dare dei grandi benefici di costi perché il mio operatore di call center lavora su davvero i problemi dei miei clienti mentre magari una serie di tematiche vengono delegate a dei chatbot o comunque degli strumenti semi automatici e io sono in grado velocemente di creare del valore e questo riesco a farlo velocemente il tema con cui concludo la tua domanda è quello invece delle competenze necessarie per spingere l'intelligenza artificiale sul dominio di mia competenza quindi sono una banca e voglio fare fraud detection sono un cliente retail e voglio fare per esempio voglio fare il customer la predizione del valore del mio cliente della propensione all'acquisto sono sempre di più applicazioni delle AI che sono dipendenti sia dal dominio che poi dai dati a mia disposizione sono del delle applicazioni che richiedono dei data scientist dei machine learning engineer che sono competenze e questo prescinde dal mondo google cloud parlo molto come persona che guarda il mercato in generale sono competenze difficili da trovare e a volte sono competenze difficili anche da internalizzare per i nostri clienti e quindi questo è uno dei temi per cui la piattaforma tecnologica deve semplificare l'adozione delle AI con gli algoritmi che ho descritto prima pur mettendo a disposizione ovviamente i machine learning engineer e i data scientist degli strumenti per spingere la tecnologia in ambito AI ML verso sempre di più un'efficienza di dominio che però un cliente può sperimentare gradualmente quindi ha un salto che oggi è molto difficile da fare per le aziende perché richiede competenze che il mercato non offre in grande quantità no è vero infatti molti annunci di lavoro vanno proprio in quella direzione e si vede che rimangono lì per mesi effettivamente le aziende hanno molto difficoltà nel trovare questo tipo di competenze o comunque formarle infatti una domanda che volevo fare visto che in diversi contenuti del sito mastermind abbiamo parlato spesso di aziende che sono guidate dal dato sempre di più da alcuni punti di vista anche proprio fino a cambiare il loro modello stesso di business dal tuo punto di vista come tendenzialmente dovrebbe essere strutturato un'azienda a livello macro in termini anche proprio di competenze di flussi di domain e così via sì allora quello che noi stiamo stiamo vedendo nell'ambito dati è qualcosa che forse abbiamo visto avvenire nel mondo nel mondo dei microservizi cioè siccome siamo sempre di più spingendo i nostri sistemi ad essere sistemi che parlano attraverso delle API di fatto quello che sostanzialmente a livello macro vediamo sempre di più i clienti ovviamente che riescono a trasformarsi più velocemente però è una trasformazione che richiede del tempo nell'ambito dei dati quello che succede è che sempre di più vediamo che i clienti sviluppano un center of excellence del cloud che tendenzialmente poi avrà una sua specializzazione in ambito in ambito dati che si occupa proprio di sviluppare le integrazioni e le piattaforme che vengono messe a disposizione invece delle varie BU e quindi le varie BU diventano la parte T delle varie BU diventano un consumatore di questi servizi che vengono sostanzialmente diciamo disegnati da un team di architetti trasversali che aiutano proprio a prendere le tecnologie che il proprio center of excellence valida anche dal punto di vista della security dal punto di vista proprio anche della coerenza con gli investimenti aziendali quindi questi architetti li validano e trasformano in best practice che le diverse business unit poi vanno a implementare e rendere fruibili anche da altre business units attraverso proprio un tema di API e quindi sempre di più sostanzialmente viene centralizzata la governance della tecnologia quindi quali tecnologie sono ammesse onde evitare proprio una discontinuità all'interno di vari team quindi mi trovo un team una business unit che usa della tecnologia che non utilizza un'altra che ha un'inefficienza perché ovviamente si tende a razionalizzare la tecnologia in utilizzo si tende poi a definire all'alto livello la best practice e quindi anche il tema che vediamo nei microservizi oggi con l'utilizzo di cluster e cluster policy configurare delle policy validate dal mio team di security di network vengono applicate a tutti i cluster che diventano quindi una specie di blueprint su cui tutta la mia infrastruttura a container viene costruita lo vediamo anche nei dati attraverso data governance data lineage eccetera vengono implementati una serie di best practice anche per andare a taggare le sorgenti dati tracciare qual è il flusso di processamento che i dati subiscono all'interno dell'azienda dove finiscono anche per sicurezza garantire che sostanzialmente in base al ruolo di una persona ci sia l'accesso corretto ai dati e che ci sia l'accesso perché se non può accedere ai dati non può prendere decisioni quindi vediamo proprio questo modello un tema trasversale di COI center of excellence che ovviamente parte magari dal mondo infrastrutturale ma specializza poi una parte del COI solo sulla parte dati perché è un mondo che vive di una serie di competenze molto forti messo a disposizione da un team di architetti che trasversalmente serve una serie di business unit che sono fatte ovviamente a loro volta addirittura a volte da dei product manager perché i veri e propri sistemi erogati all'interno dell'azienda vengono visti come proprio dei prodotti e quindi hanno una loro roadmap hanno un team che si occupa poi di mantenere il servizio e renderlo fruibile e operativi verso gli altri quindi vediamo sempre di più percorrere questo percorso verso un mondo che qualcuno chiama data mesh quindi il dato diventa sempre di più un tema di composizione come la composizione applicativa di microservizi la composizione dei dati attraverso delle interfacce che mettono a disposizione il dato come se fosse un servizio attraverso una serie di policy governance viene garantito che solo chi può accedere al dato effettivamente abbia accesso e però allo stesso tempo chi ha bisogno di prendere decisione abbia a disposizione tutte le sorgenti dati quindi questo è quello che sempre di più stiamo vedendo e anche a livello di tecnologia è quello che sempre di più le tecnologie tendono a mettere a disposizione quindi oggi molti clienti man mano che affrontano piattaforme analytics sempre più complesse vengono a chiederci proprio di aiutarli a stabilire una governance una capacità di mettere insieme la visione strategica del dato con una piattaforma che permetta di fare questo sì diciamo che sicuramente le aziende devono imparare a ragionare in un modo abbastanza strutturato che però ecco se lo adottano se arrivano ad adottare questo tipo di pratiche possono avere dei benefici veramente enormi cioè diventa un vero e proprio vantaggio competitivo dal quale veramente come si sa prima anche proprio a ritarare il modello di business e tante cose quindi ecco anche qui che vediamo proprio quel concetto di trasformazione di cui si parlava anche all'inizio senti ti devo chiedere se hai qualche risorsa da consigliare per chi ci sta seguendo sì allora io assolutamente vi consiglio di andare a a guardare il sito di sustainability di google cloud all'interno del quale potete vedere tutta una serie di molto interessante credo il tema di come è affrontata la sostenibilità ed è affrontata tantissimi anni ancora prima che diventasse un tema ormai molto stringente per tutti quanti e questo pone diciamo google cloud in un'ottima posizione e credibilità per mostrare come vengono fatte le cose in quest'ottica ci sono anche dei link che riportano gli strumenti che oggi possono essere utilizzati per incorporare questi temi nei propri servizi ma anche ci sono dei casi di studio di come dei clienti hanno costruito dei servizi a valore aggiunto partendo proprio dalla collaborazione col cloud torno al tema dei dati appunto prima come è stato possibile che un cliente mettesse insieme una supply chain sostenibile dati interni quindi una struttura sempre più orientata as a service al suo interno e dati esterni quindi dati che vengono forniti oggi tantissime aziende pubblicano degli open data che sono dati fondamentali anche per prendere le proprie decisioni aziendali e quindi la sostenibilità è uno dei temi importanti per quanto riguarda diciamo il tema il tema dei dati poi vi lascerò magari il link di un white paper sul tema dei dati data platform e quindi anche quello secondo me è molto importante vi lascio anche un link proprio sulla ricerca credo che a livello di business sia molto interessante dell'impatto che ha anche la sostenibilità proprio sul brand aziendale e quindi proprio per spiegare come la sostenibilità non è solo un tema di responsabilità sociale ma è anche un tema di valore di creare valore e insieme a questo direi che vi lascio un po' anche qualche riferimento alle nostre piattaforme dati nel quale potete approfondire sia degli scenari che che poi anche quella che è l'evoluzione in particolare magari vi lascio riferimenti di Big Lake e Dataplex che sono due strumenti nel quale oggi vediamo sempre di più andare a prendere peso nei clienti non è anche cosa intendiamo per multicloud e anche proprio il tema di rompere i silos quindi andare proprio a oggi avete un problema di business o il vostro business vi sta chiedendo di rispondere a una sua esigenza quello sicuramente dei dati a un tema attraverso il quale potreste risolvere questo problema nel modo più rapido e veloce possibile e quindi con Google Cloud io credo lo possiate fare anche con un impatto sugli investimenti graduale quindi anche in poco tempo ottenendo grandi benefici in più c'è tutto un tema di AI che sicuramente può essere utile approfondire in termini di servizi e disponibilità perfetto noi tanto grazie anche per i risorsi poi metteremo link nelle nuove sia del podcast che del canale YouTube così poi si possono consultare senza problemi e a questo punto poi avremo modo di approfondire questa chiacchierata con i membri della community di chi ci sta seguendo al sito launch che quindi sarà su Telegram in diretta chi vuole ci può mandare domande o su Slack nella community o come commento su YouTube o meglio ancora può anche partecipare direttamente su Telegram sul sito sito mastermind della stazione 20 sito launch c'è poi l'invito per accedere quindi grazie mille a questo punto Davide per tutti questi approfondimenti è stato molto interessante vedere un po' il mondo della sostenibilità e dei dati in ambito cloud e in particolare quello che viene portato avanti in Google Cloud sono sicuro che verranno fuori anche degli spunti interessanti della community e quindi ci sentiamo direttamente a sito launch grazie ancora grazie Alex grazie a tutti quanti per l'attenzione grazie a tutti